Stiamo partendo per Londra Stiamo partendo per Londra Stiamo andando a vedere i wave pictures C'è sempre una riference di Italia 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 C'è sempre una rifercross pubblicato come una parte di giornalismo che riportava per andare ad un'epoca come un'epoca di un'epoca e i plai non si riuscirono quindi è stato un po' divertimento che il primo giornalismo che aveva fatto si è andato e ho messo in una canzone non per qualsiasi motivo solo per fare una canzone questa canzone è più riguardo è una canzone di rip, non è una canzone è più riguardo ho fatto un buon rip e ho bisogno di trovare noi siamo italiani quindi stavamo chiamati come si è fresca un'altra domanda qual'è in la canzone? beer è in la canzone garlic abbiamo un po' di limone all'epoca perché abbiamo usato l'epoca 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 abbiamo usato l'epoca che non avevamo usato l'epoca è in la canzone devi arrivare a l'Italia we promise we will we will come to Italy thank you guys we will come to Italy 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 the garden had a 3 for 1 on fear and I was gone I picked a fight I couldn't finish with a marine from the village he won and sometime later on his birthday he made the pages of the Leicester Mercury get it out for the lads get it up for the British get it off for the town let it down for the village Thank you very much you you you